Il futuro della progettazione architettonica è nel Digital Twin. Questo ci consenterà di costruire i modelli digitali della nostra realtà, della nostra eredità culturale, della nostra storia, della nostra architettura e ci consentirà di gestirli, di manutenerli, di farli conoscere e divulgarli nel modo più corretto possibile. La minuccia associati si sta occupando di un edificio storico al centro di Roma, il Palazzo del Clementino, del quale è stato effettuato un rilevo tramite laser scanner e ne è stato ricostruito il modello 3D Twin Model, ossia gemello. Su questo modello sono state applicate delle regole che sono state realizzate attraverso una Model Element Table, ossia una scomposizione dei vari elementi in cui sono state identificate le proprietà del contenuto informativo necessarie per la catalogazione. Sempre nello stesso modello sono stati impostati un set di retini, secondo il lessico Normal 1.88, per identificare le tipologie di degrado. In questo modo la catalogazione anche del degrado sarà molto più rapida e immediata. Sempre su questo modello si è previsto la realizzazione di un modello energetico che sia interoperabile con i vari software di calcolo. Attraverso questo modello digitale noi potremo accedere a tutte quante le informazioni del modello reale, potremo anche gestire il modello reale, potremo vedere in modo diverso ciò che potrà essere costruito o potrà essere realizzato in futuro. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!